Dalla Chioene, arena di Padova per il match che vale l'Europa. Gara secca e chi vincerà questo match staccherà il pass per l'Europa. Prova a tenere in ricezione Cirovic ma la palla schizza via il sorpasso della Giro. 18 punti di punteggio Cirovic, forza in battuta e arriva il muro di Stefano Gozzo. In ricezione Monza, attacco da posto 3 Murato che vale il 25esimo punto per Padova che si impone così. Tiene balato in ricezione Travisa per Cirovic, buona difesa di Padova, Cirovic palla staccata da rete. Attenzione ora Monza, bravi loro. E arriva l'Ace di Stefano Gozzo. Errore al servizio per il capitano Bianconero che consegna così la vittoria alla G-Gruppe Monza che riporta in parità la situazione set. Ottima difesa di Balaso, l'appoggio di Gozzo per Cirovic che trova però la Sara Cinesca a puro della G-Gruppe. Ottimo lavoro di Rocco Barone. Viene in ricezione Monza. Monza porta a casa anche il punto del 18-25. Viene in ricezione Gozzo. Palla in mano a Travisa che serve colpato. Tocca ora a Monza. Ottima difesa di Fabio Balaso. L'appoggio di Nelly per Cirovic. Padova non riesce a tenere in piedi questa difesa. Ottimo muro bianconero. Forza al servizio la G-Gruppe con Zavoronocca e va a prendersi il punto del 20 pari. In ricezione Monza. Sosci chiama in causa l'attacco di Plotischi che spara out. 25-23. Si va al tie-break. Viene in ricezione Monza. Attacco da posto. Due Murato. Ma la palla è out. Quindi primo punto di questo. Quinto set. Viene in ricezione Monza. Murato! Da Stefano Gozzo! Oh! Palla giudicata in campo. Jacopo voto alla Sarvici. Viene Balaso in ricezione. Travizza per Cirovic. Che trova il muro piazzato. Muro che vuol dire quindicesimo punto per Monza. Che ha la meglio su Padova. E stacca quindi il Pass che vale l'Europa. Grazie a tutti.